Io chiedo scusa per le spalle per la parte migliore Quindi dicevo, oggi è un appuntamento, è una delle puntate che si susseguono ormai da ottobre fino ad oggi senza nessun pericolo, quindi abbiamo continuato tranquillamente il nostro viaggio tra i gruppi che rappresentano un po' il mondo della musica latina e questa sera ovviamente mi sento parte in causa essendo che porterò finalmente anche ciò che mi appartiene ovvero tutti o la maggior parte degli allievi della mia scuola di ballo, ovvero la scuola di ballo che rappresento quindi oggi sono in una veste inedita, nuova, non solo come animazione, come presentatore ma anche come insegnante quindi detto questo inviterei il primo gruppo a raggiungerci in pista abbiamo sette esibizioni che si intervalleranno poi ovviamente con la musica del DJ Gonzalez andiamo da una fascia di più piccoli salendo sempre di più fino a dei ragazzi, dei ragazzini un po' più grandicelli bene, allora, il pubblico è praticamente schierato, la nostra fotografa di fiducia anche accoglierei con un forte applauso il primo gruppo di questa oggi ovvero i Red Energy Musiche e Coreografie vai Fabio e Martina Marrulli questa sera ragazzi veramente ce la suoniamo e ce la cantiamo grazie 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 E' stato di qui ento la 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 Questa bulla Guarda il poco più la snapesina E non le gusta un po' di sito Ma con cordialità La mia stessa Il papà puro la diera Poi la tua una vista Se impie il forore Il bovelo, il bovelo Attacca Poi il bovelo Il bovelo la catacla La mia stessa Questa è una cosa che grisano a quissà Questa è attestà Questa è attestà Questa è attestà Sì forza Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale